. Mercato Juve, addio a fine stagione e razzia in casa bianconera, Allegri si porta via a 5 big. L'argomento del momento per quanto riguarda il calcio mercato della Juventus è senza dubbio il futuro di Massimiliano Allegri. . In queste ore infatti, oltre ad alcune novità molto importanti soprattutto per il mercato bianconero in entrata che vedremo più avanti, sono arrivate anche grosse notizie che confermerebbero il possibile addio di Max a fine stagione. . Ad avvalorare questa ipotesi sono arrivate alcune testimonianze da parte di giornalisti e addetti ai lavori che hanno confermato in coro la volontà di Allegri di lasciare la Juve, lanciando anche l'indiscrezione secondo la quale il tecnico livornese avrebbe già l'accordo per trasferirsi in Inghilterra in un grande club di Premier League. Ma anche la dirigenza bianconera starebbe seriamente valutando la posizione del proprio allenatore che, se dovesse fallire in Champions League, sarebbe ovviamente messo severamente in discussione. . Ma c'è anche un altro risvolto clamoroso della vicenda, se alla fine Allegri dovesse dire addio alla Juventus la prossima estate, potrebbe portarsi dietro nella sua nuova avventura inglese alcuni suoi pupilli, cioè alcuni top player bianconeri che potrebbero seguirlo altrove. . In particolare, sarebbero ben 5 i giocatori che Max potrebbe portarsi via, ecco di chi si tratta. . Fedele Scudiero, partiamo con la raffica dei nomi che Allegri potrebbe scippare proprio alla Juve da uno dei suoi più importanti punti fermi, Leonardo Bonucci. . Al tecnico labronico il centrale italiano piace tantissimo per le qualità difensive abbinate alla tecnica con cui imposta le azioni, un vero e proprio regista difensivo fondamentale per Allegri. . Sicuramente farebbe carte false pur di poterlo avere e allenare ancora anche nelle sue prossime esperienze. . Punto di riferimento, dal regista difensivo al vero e proprio regista di centrocampo, attenzione anche a Miralem Pjanic. Difficile trovare giocatori delle sue caratteristiche, Allegri lo sa benissimo e potrebbe provare a portarsi via anche lui. . Imprescindibile, Allegri non farebbe mai e poi mai a meno neanche di Mario Mandzukic, diventato ormai un elemento insostituibile per lui. . . Utilità, esperienza, cattiveria agonistica, grinta e spirito di sacrificio, tutto quello che l'attuale tecnico bianconero ammira e che vuole da un attaccante come Mandzukic. . Fedelissimo, nella lista rientra dobbligo anche Mattia De Sciglio, che Allegri ha allenato nella sua esperienza rossonera e che poi ha rivoluto fortemente anche alla Juve. È un pupillo di Max, anche lui potrebbe seguirlo altrove. . Elemento chiave, occhio poi anche a Blaise Matuidi, giocatore tatticamente perfetto per caratteristiche e allo stile di gioco di Allegri. Il francese potrebbe far parte di quei giocatori che Max potrebbe volersi portare dietro. . Ma, come anticipato in apertura, proprio in queste ore sono arrivate altre clamorose novità anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus in entrata. Paratici non ha dubbi, deciso il prossimo supercolpo, costa almeno 70 milioni di euro. .